Ciao, 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 ok Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa L'unica scelta è di entrare voi all'interno dei palazzi e voi fare politica in maniera partecipata dal basso Dal basso significa cambiare questa classe politica Dovete buttarli fuori, li dovete licenziare Ho un grillo per la testa La politica non è privilegio di pochi, ma è un servizio ai cittadini Basta con le caste dei politici, dirigenti e funzionari Noi non ce lo possiamo permettere di mantenere 90 deputati a 22.000 euro l'uno Esigiamo trasparenza nella pubblica amministrazione Fuori la marchia delle istituzioni Noi vogliamo buttare fuori la marchia del Parlamento Il nostro territorio è un patrimonio che va tutelato, non so tutto Non voglio abbandonare la mia terra Vorrei una vera informazione libera Pacamo troppo per i rifiuti Passiamo alla raccolta differenziata, anche porta a porta Non abbiamo bisogno di un ceneritore Vogliamo che cresca un ambiente sano L'acqua è un bene di tutti, non privatizziamola È l'inizio di un percorso, guardate che noi siamo come un vinto È il vinto della persona che è il bene, è il vinto dei siciliani onesti Alle elezioni del 13 e 14 aprile per la presidenza della regione siciliana Votate Sonia Alfano, candidata alla lista Amici di Beppe Grillo Cambiare si può, il futuro della Sicilia siete voi Guardate quanti batteri, infondiamoci, infettiamo le ducche e tutti a casa gli orisonesti Arrivederci Grazie